Ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna per traffico intenso. Sulla Firenze Mare, rallentamenti e code per traffico verso Firenze, tra Prato Ovest e Firenze Ovest e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Ci spostiamo in FIPILI, rallentamenti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze, in carreggiata opposta, coda per incidente tra Cascina e Pisa Nord-Est. Per le statali segnaliamo sul raccordo Bettolle-Perugia, riduzione di carreggiata per lavori tra Foiano della Chiana e Cortona. In chiusura per i cantieri per la tramvia a Firenze, segnaliamo restringimenti di carreggiata in zona Viale Guidoni, tutti i dettagli su comune.fi.it. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!